Vi voglio presentare le persone con cui parliamo di questo Natale solidale e di giovani, perché è molto importante parlare soprattutto oggi. Qui accanto a me c'è Valentina Bresciani, responsabile della struttura accoglienza dell'associazione Amici dei Bambini, che ringrazio, e Carlo Tedeschi della fondazione Leo Amici. Inizierei proprio da lei, Tedeschi, perché lei è l'ideatore di questo piccolo paese fuori dal mondo, che è diventata effettivamente una realtà. Siamo sulle colline riminesi e lì si sperimentano delle nuove forme di socialità. Andiamo a vedere insieme il racconto della nostra Chiara Calero e poi ne parliamo. Quando nel 1982 Leo Amici decise di fondare, grazie ad una colletta, qui sulle colline a sud di Rimi, non c'era nulla, solo il lago, una vecchia porcilaia e un podere. Sognava una clinica, una residenza per anziani e bambini in difficoltà, un piccolo paese fuori dal mondo appunto. Trent'anni dopo il suo sogno è stato realizzato ed è anche più grande. Cinque nuclei familiari abitano oggi nella palazzina chiamata La Meta. Arriviamo che è l'ora del pranzo e sono pronti a mettersi a tavola. È un vivere una vita nell'amore verso il prossimo. Io questo lo vivo, no? Per me fare questa cosa è come essere presente tutti i giorni davanti alle persone. Una rete sociale dove la fede è un collante ma non è discriminatoria, intrecciata dai 700 volontari, un centinaio quelli che ogni giorno si alternano nelle attività. Negli anni hanno beneficiato di questo impegno anche molti bambini, quelli provenienti da Chernobyl, venivano qua a passare un periodo di vacanze. Quelli oggi in difficoltà trovano alla base due figure genitoriali che possono accompagnarli in un periodo complesso per le loro famiglie d'origine. Dopo qualche giorno si gira e mi chiama, mamma! E poi dopo si riprende e fa, no, te lo sei la mia mamma. Vorrà dire che ho due mamme. Un posto di fantasia feliniana che ha diverse sedi in tutta Italia e che forse non poteva non avere un teatro con relativa compagnia. 18 produzioni all'attivo è una missione tenere insieme il talento, la beneficenza e il business che serve a mantenere tutto questo. Gianluca è diventato primo ballerino e coreografo. Lo incontriamo in teatro dove tutto è fatto in casa, anche i costumi. È stato per me il dono più grande che potessi ricevere. Io ero un ragazzo quando avevo 18 anni che rincorreva, rincorreva a se stesso e qui attraverso Leo Amici, il fondatore di questo posto, poi Carlo Tedeschi che mi ha seguito tantissimo dopo la morte di Leo Amici, facendomi scoprire la bellezza. Chiara Kaleoska, ITG24, Rimini. Carlo Tedeschi, prima abbiamo parlato della selfite, della piazza virtuale e invece il teatro ti fa toccare, ti fa respirare il pubblico, diventa veramente qualcos'altro. Il teatro unisce, aggrega molto, anche perché di fronte al pubblico nel recitare una parte si è sicuri di quello che si sta recitando perché la si è imparata a memoria. Oppure c'è stato un regista che ti ha detto entra a sinistra, entra a destra, muoviti, balla, danza, canta, eccetera. E dunque su questa sicurezza ogni ragazzo può esprimere veramente se stesso. Sembra un paradosso, no? Si interpreta una parte eppure esce fuori la verità di se stessi. E' questo che unisce molto in teatro. Io ho sempre pensato che sia terapeutico il teatro perché tira fuori sempre qualcosa, qualche aspetto di noi che magari non conosciamo fino in fondo, no? Assolutamente sì. Nell'interpretare questo o quell'altro personaggio si scopre che in fin dei conti c'è una rete di valori o di disvalori tra l'altro che ci unisce profondamente. Noi nasciamo tutti con difetti e pregi. Dipende poi da noi riuscire a far emergere gli uni e a soffocare gli altri. Quando c'è un minore in questi casi, lo chiedo entrambi, perché ovviamente quando in una famiglia c'è violenza e c'è un bambino che assiste a quella violenza c'è tutto un percorso psicologico che questo bambino deve fare e soprattutto magari c'è anche la reticenza della madre a denunciare anche perché allontana volente o nolente il figlio dal padre. Provare a dare dei nomi diversi a questi atteggiamenti e a spiegare in che modo uno può tirare fuori anche la rabbia e il dolore che ha dentro. Si può fare infatti in teatro. Questa è assolutamente la terapia di cui parlavamo, no? Questo è importantissimo lasciare che liberamente esprimano la loro rabbia. È importante perché altrimenti resta, represta dentro di loro. Tra l'altro è un ricettacolo di tanti virus e tante malattie, la rabbia in se stessa, no? Attira proprio il negativo. L'importante è appunto assecondare le loro espressioni, riuscire a farli esprimere e non mortificarli nel dire no, questo non si fa, questa reazione è brutta, questa reazione è cattiva, assolutamente no. Lasciarli liberi, anzi partecipare con loro a queste loro reazioni negative. Che belli auguri, no? Veramente c'è sempre spazio per tutti, anzi più si è meglio è. Io vi devo ringraziare, siamo davvero in chiusura. Carlo Tedeschi, Fondazione Leo Amici, Valentina Bresciani.